Sognatori, oggi è un giorno importantissima a Ischia di Preciso nel comune di Porio, è la pezza di Santa Maria, tradizione, giusto, Santa Maria al Monte, ed è tradizione per la nostra famiglia venire a mangiare la pizza di zia Giovanna e zio Battiluccio, preparata anche dal nostro Nicola, ed è una tradizione lunga, quasi 70 anni, possiamo dirlo? Lunga, non è una cosa così, 50 anni. Una tradizione lunga, da 50 anni, che si tramanda da generazione in generazione. Si aggioco? Posso? No, mi sapevo, vai. No, mi sapevo, vai. No, mi sapevo, vai. No, mi sapevo. No, mi sapevo, vai. Grazie.